Bentornati a Pillole Astronomiche. Nel 1977, con il progetto Voyager, sono state lanciate nello spazio due sonde. Ciascuna conteneva un disco per grammofono fatto di rame e placato in oro, su cui sono stati incisi suoni e immagini della Terra e degli esseri umani. L'idea era quella di inviare ad una civiltà aliena, oltre che le coordinate della nostra posizione, un messaggio più completo, che mostrasse come siamo fatti, come ci esprimiamo e la nostra cultura. I due dischi contengono 27 canzoni per un totale di un'ora e mezza di musica, 116 immagini digitalizzate, contenenti sia fotografie della Terra e dei suoi abitanti e sia dei grafici che riportano informazioni di carattere scientifico. La registrazione di brevi saluti rivolte le civiltà che li ascolteranno in 55 lingue diverse e i suoni della Terra, quindi il passaggio di un treno, il cinguettio degli uccelli o il rumore della pioggia e del vento. I due dischi sono protetti da una copertina che riporta le istruzioni per poterli leggere, oltre che la puntina per poterle riprodurre. Questo messaggio è molto più complesso dei precedenti e si propone di mostrare ad una futura civiltà extraterrestre un po' dello spirito artistico e culturale della nostra civiltà. L'allora presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, ha inserito nella sonda Voyager 1 un suo personalissimo messaggio di cui leggo un estratto. Parlando dei due dischi d'oro dice «Questo è un regalo da un piccolo mondo lontano, un estratto dei nostri suoni, della nostra scienza, delle nostre immagini, della nostra musica, dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti. Stiamo cercando di sopravvivere al nostro tempo, così da poter vivere fino al vostro. Speriamo un giorno di poter aver risolto i problemi che abbiamo e di raggiungere una comunità di civiltà galattiche». Questo estratto rappresenta la nostra speranza, la nostra determinazione e le nostre buone intenzioni in un immenso e meraviglioso universo.